Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, oggi è il primo febbraio, iniziamo questa nuova settimana, iniziamo il mese che speriamo davvero per tutti voi sia e per tutti noi un mese splendido. Iniziamo dal santo del giorno, oggi è il beato Andrea Carlo Ferrari, il sole è sorto alle 7.26, tramonterà le 17 e 17 minuti. Allora andiamo subito a vedere il tempo, lo facciamo passando dal nostro sito internet occhionanotizia.it che come vedete in apertura alla festa, la grande festa per 75 mila persone che ieri erano il carnevale di Fano, ma andando e scorrendo, cliccando sul bottone del meteo, andiamo a vedere la temperatura di oggi, in questo momento le 7.30 sono 6 gradi, ma guardate la nebbia che c'è questa mattina sulla città di Fano. Andiamo anche sulla, se ce la facciamo dalla regia con la telecamera esterna, ecco vedete non si vede nulla, là dietro in realtà oltre a quella nebbia dovrebbe esserci il centro di Fano, l'arco d'Augusto, ma come vedete la nostra telecamera inquadra soltanto nebbia, grigio, fumo e quindi nebbia. Andiamo a vedere le previsioni per oggi, oggi avremo cielo sereno, anzi avremo cielo poco nuvoloso, con temperature in ulteriore lieve aumento, i venti sono deboli, domani, martedì 2 febbraio, cielo parzialmente nuvoloso con temperature stazionari. Avremo ancora condizioni di variabilità nei prossimi giorni della settimana, al momento senza fenomeni degni di nota, le temperature sono in lieve diminuzione e si parla anche di temperature nei giornali questa mattina, giornali che essendo lunedì, come tutti lunedì hanno l'inserto sportivo e quindi ampio spazio riservato al calcio in primis. Però ci sono anche altre notizie, come il Carnevale appunto dicevo, ma anche i giorni della merla, i giorni della merla che per la tradizione sono i giorni più freddi, ma in realtà anche ieri è stata una giornata davvero molto calda. Eccola qui allora la notizia con due fotografie che mettono a confronto la giornata di ieri, 31 gennaio 2016 e per esempio il 5 febbraio del 2012, l'anno del grande nevone. E vedete come era diversa, come erano diverse le temperature, come è diversa la giornata, insomma là c'era la neve e qua invece ieri era davvero una giornata primaverile. Raggiunta la minima più alta di sempre, scrive il resto del Carlino, prati fioriti, ma attenti, il freddo è in agguato. Ieri in città il termometro ha segnato 13,4 a mezzanotte, pensate. Negli anni 50 il freddo raggiungeva nella notte anche 10 gradi sotto lo zero. C'è verso che la merla sia già intenta a preparare il nido piuttosto che ripararsi dal freddo in qualche comignolo. Andiamo sulla pagina adesso invece dedicata al carnevale. Restiamo sul resto del Carlino. Sfilata record, ma il vento, ieri infatti c'era il libeccio, il garbino, un vento forte anche e soprattutto nell'entroterra che però è arrivato sulla costa. Sfilata record, ma il vento decapita il cardinale. Vedete, chi non è stato al carnevale ieri, guardate questa fotografia all'allargo, ecco a un certo punto il carro con la testa di questo cardinale ha sfilato senza il capo. Perché? Perché c'era pericolo che cadesse giù con il forte vento di ieri. Carnevale di sole e di zucchero, gli organizzatori gongolano, tutti contenti, 70 mila le presenze alla seconda sfilata del carnevale di Fano. Sempre sul Carlino sotto, stasera c'è una riunione del Partito Democratico a Villa Fastigi, sull'ospedale unico e su dove costruirlo, Verdini, l'ex sindaco di Cartoceto, propone un referendum. Ancora, il caso dell'acido, Luca Varani. Varani è alla prova a TV, storie maledette, il programma di Rai 3, lo ha intervistato dal carcere, due ore di colloquio, la puntata andrà in onda giovedì. Il padre di Luca dice, ha risposto a tutto, l'intervista avviene prima ancora dell'udienza in corte di Cassazione. Per la registrazione della puntata la troupe è rimasta un giorno. La tragedia di Natale in A14, il cameriere Fanese interrogato, travolse, uccise madre e figlio. Oggi il 44enne Fanese dirà la sua verità al pubblico ministero. Non dorme, non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto ed è in cura da uno psicologo. Anche la sua vita si è fermata il giorno di Natale, quando l'auto sulla quale stava viaggiando, una Opel Corsa, è piombata su una Fiat Punto, ferma nella corsia di emergenza in A14, uccidendo sul colpo una madre di 28 anni e il suo figlio di 10 mesi. Paura invece ieri per un tamponamento dove una donna è rimasta incastrata intorno alle 18.30, è successo sulla corsia a sud dell'autostrada all'altezza di Fano. Un po' di speranza per quelli che hanno perso i soldi in Banca Marche. Andrea Cecconi, riavere i soldi si può, Codacons e 5 Stelle uniti, il crack del risparmio, un incontro ad Urbino alle 20.30 nella sala della provincia che si trova in piazza Risorgimento 1, appunto nella città ducale. Il crack di Banca Marche, risparmiatore a Roma, ora i sindaci ci aiutano, ci aiutino la ringa di Giacomo Rossi del comitato civico. C'è anche, andiamo ancora all'ultima pagina del resto del carino, del carino, prima dello sport, la grande cena di Sant'Antonio, così la città diventa più solidale, la città di Pesaro, a Villa Fastigi, la tradizionale serata curata dalla Lega dei Coloni. Qui ci sono le immagini, le fotografie, che tra l'altro troverete anche sul sito del resto del carino, che sono state scattate nella serata. Andiamo a vedere adesso un attimo il calcio, perché c'è stato il derby ieri a Recanati, tra l'Alma Juventus Fano e la Recanatese, un derby finito a favore dei padroni di casa. La Recanatese ha vinto 3 a 2 contro l'Alma contro i Granata. Partita bellissima con i locali che esultano in pieno recupero. Il derby, questo è il titolo delle mille emozioni, mille emozioni che potrete rivedere questa sera dopo il telegiornale e dopo lo speciale dedicato alla seconda sfilata del Carnevale di Fano. Quindi ragione in più per dare un'occhiata e per guardarsi la partita di questa sera sul nostro canale, sul canale 17. Esplode la festa, baciata dal sole, il getto è ricco, rispondendo un po' anche alle polemiche sulla qualità del getto della prima sfilata. Insomma, quindi pare che sia andato tutto bene. Ieri grande folla, nell'intera giornata, sono 70 mila con tante bambine entusiaste dalle magiche fatine delle Wings, tant'è che ieri era la giornata dedicata alle fatine delle Wings che per tutto il giorno, anche la mattina, non dimentichiamo, ce l'abbiamo trasmesso in diretta anche ieri mattina, l'appuntamento di Piazza 20 Settembre. Non solo, un bel momento con tanta gente e tante bambine, tante bambine. Traffico invece in tilt, caccia al posteggio. È chiaro che tanta gente ieri si è riversata in città, affano e quindi problemi anche alla viabilità. Il carro, eccolo qua, questo carro senza testa, il carro a Bemus Carnevale, ma sfila con il grande cardinale decapitato per sicurezza a causa del vento. Debutta anche l'orchestra sinfonica Rossini. E poi sotto troverete la fotocronaca con le mascherate protagoniste ieri in Viale Gramsci. Andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere. Fondi dalla Regione per sviluppo e lavoro. Pesaro capofila del partneriato per 1,7 milioni che coinvolge, 40 milioni e le parti sociali. Poi incidenti in autostrada, due conducenti feriti nelle corsie sud e nord tra Pesaro e Fano. Apriamo adesso il messaggero. Secondo casello, avanti tutta. prevista per l'autunno, l'apertura del cantiere dell'autostrada a Santa Veneranda. Il comune di Pesaro dice che entro poche settimane avremo l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente. Poi sopra invece delle brevi di sport, dove la Vis ci mette cuore e testa, ma non bastano. La capolista la gela con due gol. Dunque a San Benedetto i pesaresi bloccano per 70 minuti l'attacco della corazzata, ma la disattenzione di un paio di minuti sono fatali. Infortunato Brighi. Dunque Vispesoro perde, il Fano perde, ma comunque con grandi emozioni abbiamo visto. Beffato Recanati, addio alla corsa, promozione. Poi la VL che ha battuto Varese, Superdai toglie dai guai appunto la VL. Quindi è andata bene per il basket. A centro pagina, scherzo del vento, il carro sfila senza testa e poi sotto ancora clima da primavera. Le previsioni del meteorologo, nelle prossime 48 ore l'influenza dell'anticiclone sarà ancora più decisa. In particolare sulle aree montane, dove il clima sarà decisamente primaverile e l'atmosfera sarà tersa. Sull'altra pagina del messaggero, anche qui la merla è andata al mare, i giorni più freddi hanno regalato la primavera. Infine l'ultima pagina della nostra segna stampa, Nautica, Arrossini, altri due super yacht, grazie al rilascio della concessione per lo specchio d'acqua davanti al cantiere, avarie in mare, diportisti in difficoltà, in tre vengono soccorsi dalla capitaneria. È un terzetto che era uscito in mare tutto fanese, era uscito per una battuta di pesca, poi c'è stato un guasto, si tratta di un'imbarcazione di 7 metri, però per fortuna tutto alla fine è andato bene. A Monte Grimano invece danno fuoco ad un bosco, caccia ai piromani. Il rassegno stampa finisce qui, grazie per averci seguito. Stasera c'è Occhio alla Notizia alle 20.30, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.